TQKTG, benvenuti subito insieme ai nostri titoli di apertura. Laureati in 1.000 euro precari e sempre in corsa, sanzioni per chi abusa dei contratti a termine. Servizi IMSS in rete come richiedere il LARPIN a conto otasi 16 giugno o 16 ottobre dipende dai comuni. L'Europa lancia una nuova campagna contro lo stress, alt bonus, incentivi fiscali per chi investe nella cultura. Contributi dimezzati per chi assume donne oppure over 50 ispettori del lavoro, nuove modalità per gli accertamenti. Per quanto riguarda invece i nostri speciali, in TQKPIL ci occuperemo delle aziende di come possono pagare meno interessi alle banche. Invece in TQKLive parleremo di Vicenza for Children e dell'orchestra del Teatro Olimpico. A tra poco! Ed eccoci alle nostre notizie. Laureati in 1.000 euro precari e sempre in corsa, dicevamo, nei nostri titoli di apertura. Non c'è più oggi infatti un percorso di studi che garantisca il lavoro, cresce la disoccupazione anche tra i laureati sia triennali che quinquennali. Nonostante questo, due terzi di essi riescono comunque a trovare lavoro, ma con attribuzioni molto basse all'incirca 1.000 euro al mese. Senza contare che spesso i giovani laureati devono anche arricchire la propria formazione attraverso attività complementari, il più delle volte non retribuite e anzi costituenti un aggravio in termini di tempo, di energie e di spese. Il tutto per ottenere un lavoro che solo in un caso su tre è stabile, con contratto a lungo termine. Negli altri casi si va avanti come precari, collezionando chiamate. E c'è chi per vivere è disposto anche a lavorare in nero. Dai dati di Alma Laura, una ragazza su dieci, ha provato anche questa esperienza. Sanzioni per chi abusa dei contratti a termine. Il datore di lavoro che sfora il tetto del 20% di contratti a tempo determinato deve pagare una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione del lavoratore per il primo contratto che supera il limite. Tale quota aumenta invece al 50% della retribuzione per gli sforamenti successivi. Il ricavato finirà nella Fondo Speciale per l'Occupazione. Dall'accomputo dei lavoratori a tempo determinato sono esclusi e quindi non vanno conteggiati i co-co-co e altri lavoratori non subordinati. Chi invece, al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto lavoro, ha già alle dipendenze un numero maggiore di dipendenti a tempo determinato rispetto al previsto a tempo finale 2015 per mettersi in regola. I nostri speciali T-Quick Pill, vi anticipavamo prima, ci occupiamo di aziende e di come possono fare per pagare meno interessi alle banche. Pagare meno interessi è possibile o è un sogno? Questo sogno lo possiamo tramutare in realtà, l'importante è dare una contropartita agli istituti di credito perché a loro volta possano applicarci un tasso di interesse più basso. E quindi introdurrei l'argomento della garanzia che tutte le nostre aziende conoscono, sanno di che cosa si tratta, però chiaramente una garanzia presuppone che l'emittente intanto sia solido e gradito all'istituto di credito e che il cliente, il debitore, sia altrettanto con delle caratteristiche. Chiaramente una garanzia costa dei quattrini. Il segreto per riuscirci è quello di avere una garanzia. Perché è così importante avere una garanzia? È importante perché permette al cliente di poter essere più forte dal punto di vista contrattuale nei confronti della banca, per cui quando si sente dire che per il suo scoperto di conto o piuttosto che per il suo anticipo fatture o il suo salvo buon fine si sente fare dei pricing molto elevati, il fatto di poter argomentare che lui è assistito da una garanzia e a questo punto diventa fondamentale che questa sia la più solida possibile, è chiaro che arrivati lì l'istituto di credito ovviamente concede un abbassamento di tassi perché il soggetto diventa molto più solvibile in quanto assistito da una garanzia. Riprendiamo il nostro TGI, i servizi IMSS in rete come richiedere il PIN. Per accedere ai servizi telematici offerti al cittadino sul sito dell'IMS, i contribuenti devono disporre della PIN, cioè di un codice segreto di identificazione personale. Grazie a tale codice possono avere tramite i PC numerosi servizi, evitando spostamenti e lunghe file negli uffici. Tra i servizi fruibili in rete figurano il calcolo preventivo della pensione, il controllo dei contributi previdenziali e molti altri. Chi non avesse ancora attivato il PIN lo può fare seguendo le istruzioni riportate sul sito www.controlproject.com nella pagina delle novità. Acconto tassi 16 giugno o 16 ottobre dipende dai comuni. Le città che si sono prese in ritardo avranno tempo fino alla 31 di luglio per stabilire le aliquote tassi e i contribuenti dovranno versare la prima rata entro il 16 di ottobre. Nei comuni più virtuosi che invece avevano approvato in tempo utile le aliquote, ossia entro il 23 maggio scorso, la scadenza dell'acconto tassi era fissata aprile 16 di giugno. Adesso diamo spazio ai nostri partner. L'Europa lancia una nuova campagna contro lo stress. Metà dei lavoratori europei lamenta di soffrire nel proprio ambiente di stress lavoro correlato e che la propria azienda non sappia gestire in modo adeguato il fenomeno, mentre basterebbero semplici strumenti per limitare i rischi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per far fronte a questo allarme, per conoscere meglio il fenomeno, per incoraggiare imprese e responsabili a gestire efficacemente l'emergenza, l'agenzia EUOSHA ha lanciato la nuova campagna insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato che si va ad affiancare all'altra già esistente ambienti di lavoro sani e sicuri. L'iniziativa si svolgerà nel 2014 e nel 2015 e interesserà numerose organizzazioni di oltre 30 paesi d'Europa. Previste attività di promozione, incontri, informazioni, conferenze, workshop, manifesti, video e concorsi fotografici, quiz e campagne pubblicitarie. Nel mese di ottobre, poi sia quest'anno che il prossimo, quindi 2014 e 2015, avranno luogo le settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro. Alt bonus, incentivi fiscali per chi investe nella cultura. Il Decreto Cultura, approvato dal Consiglio di Ministra, ha introdotto diverse novità per favorire la tutela del patrimonio, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. In particolare, è stato introdotto un nuovo incentivo fiscale, l'art bonus, per chi effettua erogazioni liberali utili per la manutenzione e la protezione dei beni culturali, per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura, per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici. Così come già avvenuto felicemente con l'Eco Bonus, è stato previsto un accredito d'imposta pari al 65% della denunzione effettuata per gli anni 2014 e 2015, che diventerà del 50% nel 2016. E proprio a proposito di cultura, ci occupiamo adesso di una realtà che da molti anni fa cultura e cultura musicale, ossia l'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Da quasi 25 anni, perché siete nati nel 1990 come orchestra del Teatro Olimpico, ovvero siete l'orchestra del teatro coperto più antico del mondo. È una bella responsabilità, è più un onore o un onore? Sicuramente un onore. È stato un nostro grandissimo onore esportare il nome di questo meraviglioso teatro in Italia, ma anche nel mondo, grazie alle numerose tournée, sia in Europa che anche negli Stati Uniti ed America. Da quanti elementi è composta questa formazione? La formazione standard è composta da 40 elementi circa, ma essendo l'orchestra molto d'utile, adattandosi quindi a varie tipologie di repertorio, quindi ricordiamo addirittura la collaborazione con il Vicenza Jazz, oppure il progetto Bach, quindi spaziamo dal barocco al romanticismo, al contemporaneo, al jazz, ovviamente l'organico può mutare, e quindi può esibirsi anche con organici ridotti, oppure superare i 40 elementi. È una bella realtà quindi della nostra provincia, che sicuramente ha dato un apporto comunque importante sul piano culturale, alla città di Vicenza, ma anche al panorama musicale, direi, nazionale, internazionale, come abbiamo visto con tutti questi concerti che avete eseguito. I momenti più emozionanti di questi anni, quelli che ricorda con maggiore piacere un episodio particolare? Sicuramente la collaborazione con il maestro Utho Ugi, che ha espresso, mi ricordo, un apprezzamento verso l'orchestra, un grande apprezzamento. Durante le prove è finito di eseguire il suo concerto per violino di Beethoven, si è girato verso l'orchestra a fare i suoi complimenti, quindi questo è stato un momento, tra i tanti, che si possono ricordare, molto emozionante. Come sempre vi ricordiamo che sul nostro sito www.tquick.tv trovate tutti i video, quindi non solo i nostri TG, ma anche tutti i nostri speciali. Veniamo alle ultime notizie di questa edizione. Contributi dimezzati per chi assume over 50 e donne, paga solo il 50% di contributi INAIL e IMS, il datore di lavoro che assume disoccupati con più di 50 anni, oppure donne disoccupate di qualsiasi età, lo prevede la legge Fornero. L'agevolazione è valida per un anno e spetta per contratti di lavoro dipendente a tempo determinato stipulati a partire dal 1 gennaio del 2013. La riduzione dei contributi viene prorogata un anno e mezzo, se il rapporto di lavoro diventa poi a tempo indeterminato. Ispettori del lavoro, nuove modalità per gli accertamenti. Il nuovo codice che regolamenta l'attività degli ispettori, è entrato in vigore quest'anno, si sta rivelando utile per rendere le operazioni più facili e veloci e per tutelare maggiormente sia i funzionari che i datori di lavoro. Tra le novità introdotte, il fatto che il personale ispettivo deve subito qualificarsi ed esibire la testa di riconoscimento, altrimenti non può procedere. Il titolare dell'azienda invece ha facoltà di farsi assistere da una professionista. Per tutta la durata dell'ispezione deve poi valere il principio di collaborazione tra chi accerta e chi viene accertato. E questa era anche l'ultima notizia di questa edizione. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a presto.